Musica Buonasera a tutti è con grande piacere che questa sera inauguriamo con questa mostra dedicata a Bruno Vidoni inauguriamo la sessione centese del Festival di Internazionale di Ferrara è uno dei festival forse il più prestigioso a livello nazionale e noi lo inauguriamo proprio con Vidoni e Vidoni sapete tutti naturalmente che il festival è dedicato alla rivista internazionale che ha come tema la comunicazione Vidoni è stato un precursore è stato un genio nella sua visione delle cose nel momento in cui ha realizzato questi falsi scoop sulla finti reportage di guerra riguardo l'Irlanda la Cambogia e la seconda guerra mondiale è stato un genio proprio perché le sue immagini sono state raccolte dalle riviste internazionali sono state diffuse come attestate di verità cosa che ovviamente non era vera e con la sua ironia e il suo sarcasmo è riuscito a dimostrare come la comunicazione di massa abbia dei punti davvero dei punti deboli e in questo modo ha spinto anche noi ad avere maggiore coscienza ha dato un insegnamento anche a noi ad avere maggiore coscienza e non perdere mai il senso critico e la visione delle cose perché appunto un'immagine non è non è tutto non è l'unica verità che noi possiamo vedere ci ha insegnato anche che le guerre non si combattono solo sul campo ma si combattono anche con il sistema mediatico questo è un messaggio un insegnamento per tutti di maggior coscienza e consapevolezza nella nostra vita nel nostro modo di affrontare le cose questa sera abbiamo quindi come ospiti abbiamo Roberto Roda che ha scritto il libro che abbiamo presentato il 10 settembre l'11 settembre su Bruno e abbiamo voluto invitare qui un Castaldo Edoardo Castaldo che è un fotoreporter di guerra proprio perché ci parli è un fotoreporter di tante di tante cose però in questo caso l'abbiamo invitato proprio perché ci parli della sua esperienza in questo in questo ambito lui è stato in Palestina è stato a Gaza ha fatto la primavera araba soprattutto in Egitto e quindi ha vissuto direttamente queste situazioni drammatiche e in questo modo noi possiamo parlare e fare così non dico un confronto ma portare fare un parallelo fra le due esperienze l'esperienza vissuta di Edoardo e così insomma riflettere ancora sulla prospettiva che ci ha dato Vidoni passo la parola per primo a Roberto Roda grazie buonasera a tutti grazie di essere intervenuti sono sicuro che sarà una serata piacevole e interessante come sapete il festival internazionale è incentrato su questa rivista sui fatti del mondo e anche sul tema della comunicazione quindi direi che l'iniziativa accolta all'interno del festival capita perfettamente a fagiolo con l'uscita del volume che abbiamo preparato questa monografia dedicata appunto a Bruno Vidoni e colgo l'occasione per ringraziare Maria Teresa Alberti che è la coautrice di questo volume che non sta seduta qui perché ha detto questa sera vedi di sbrogliartela un po' tu ma che ripeto è stata attentissima co-curatrice di questo lavoro che ci ha impiegato parecchio tempo e parecchio impegno per rimettere ordine in queste provocazioni d'arte di Bruno Vidoni questa sera nonostante l'uscita del libro noi non parleremo di tutta l'attività di Bruno e di tutte le provocazioni che Bruno Vidoni ha fatto le abbiamo trattate nel precedente incontro e lo faremo nuovamente lunedì a Ferrara alla biblioteca Riostea questa sera ci concentriamo invece su un aspetto molto particolare cioè quello dei primi falsi reportage quelli che hanno permesso a Bruno Vidoni di entrare nella storia della fotografia italiana cioè per intenderci il reportage sulla guerra in Cambogia Vietnam Cambogia e il reportage sulla falsa guerra d'Irlanda l'occasione è anche quella appunto ve l'ha presentato qualche minuto fa di avere con noi Edoardo Castaldo è un'occasione unica perché dalle sperimentazioni di Bruno Vidoni dalle sue teorie dalle sue opinioni sono passati ovviamente molti anni e nel frattempo noi abbiamo avuto una davvero rivoluzione nella comunicazione una rivoluzione che è entrata con il digitale sono cambiate le prospettive dell'informazione sono cambiate molte cose quando Bruno Vidoni faceva le sue provocazioni il successo diciamo così della fotografia era al culmine era considerato il mezzo per eccellenza di una determinata forma di comunicazione e tanto che esistevano ancora prestigiose riviste che erano riviste illustrate che basavano il loro successo per l'appunto sulla fotografia ne valga una per tutti in Italia epoca attraverso cui sono passati alcuni dei più grandi reporter del periodo oggi non è più così le riviste in giro per il mondo che si occupano e pubblicano reportage sono rimaste davvero poche nel frattempo è arrivato internet sono arrivati telefonini sono arrivati fotofonini tutti fotografano si è moltiplicata la realizzazione delle immagini tutti i problemi questa sera che vedremo di affrontare insieme perché l'occasione è duplice da un lato l'uscita di questo volume quindi di riportare l'attenzione sull'opera di Bruno ma al tempo stesso avendo un personaggio come Edoardo beh approfittiamone ne vale la pena di cercare di mettere insieme le due cose e quindi cerchiamo di capire con lui che cosa è cambiato e che cosa la professione di fare il reporter sia cambiata rispetto ai tempi di Bruno rispetto a quei tempi che Bruno in un certo senso prendeva in giro motivatamente in realtà Bruno non si è mai sognato di prendere in giro i reporter Bruno entrava in un meccanismo che era quello di criticare i meccanismi dell'editoria quindi i meccanismi della comunicazione e su quella base ha portato avanti appunto i suoi falsi reportage le sue provocazioni d'arte perché io tengo sempre a dirlo e lo dico anche in questa serata parliamo di fotografia in questo caso parliamo di falsi reportage ma Bruno Vidoni è stato un grande artista un artista che adoperava la fotografia questo bisogna sempre tenerlo presente e non dimenticarlo come manderemo avanti questa serata beh innanzitutto rinfrescando a voi e a noi la memoria di quello che successe in quel periodo con Bruno Vidoni e cercheremo di farlo magari dicendo anche qualcosa un po' di diverso rispetto a quanto abbiamo detto le ultime volte di diverso nel senso di aggiungere qualcosa quanto abbiamo già detto così vediamo che quelli che fossero stati presenti nel precedente incontro abbiano degli ulteriori motivi di riflessione e poi terminata questa parte io passerei poi la parola appunto ad Edoardo lasciando a lui il modo di riflettere su quella che è una professione oggi del reporter su quella che è il suo mestiere e quindi chiedendo a lui di farci vedere delle sue cose è anche una riflessione di fondo su quello che è l'intervento sull'immagine perché se Bruno Vidoni partiva da un concetto di base cioè di fare dei falsi reportage dei falsi scoop quindi facendo delle fotografie costruite lo faceva su una base teorica piuttosto importante piuttosto precisa ma l'alterazione dell'immagine che sta nella storia del reportage perché oggi noi abbiamo tutta una serie di immagini che appartengono alla nostra storia visiva oltre che alla storia dei reportage fotografici che sappiamo che sono delle fotografie costruite come vedete non adopero la parola banalmente falsi sono delle fotografie costruite il vero problema è che le persone credono che quelle immagini non siano costruite cito sempre come esempio il famoso bacio di Duasnod davanti all'hotel della villa a Parigi perché quello è stato sulle camere di generazioni di ragazze soprattutto ragazze trepidanti e continua ancora a essere venduto e appeso su delle per essere messo sopra il letto nella stanza è una foto veramente molto romantica lo sto scoprendo adesso però come dicevamo questa fotografia è una fotografia totalmente costruita cioè Duasnod che era un eccezionale fotografo di moda e gli avevano dato un incarico che era quello forse l'ho già raccontato di realizzare un reportage fotografico su Parigi e sul valore dell'amore a Parigi perché effettivamente era la capitale dell'amore e dell'Eros lo è stata per tutti il Novecento lui ha pensato bene che per fare quella cosa aveva bisogno di due attori ha preso due attori li ha messi per la strada ha scattato quell'immagine mossa meravigliosa e tutti non si pongono il problema che sia una foto costruita di fatto è come un film ma ne abbiamo tante altre la storia del miliziano di Cappa che è diventata il simbolo della guerra spagnola allora grande dibattito ma dice il miliziano è morto sì è vero che il miliziano è morto ma non è morto in quell'istante lì è morto un'ora o due dopo quando gli hanno sparato per davvero mentre Cappa l'ha preso mentre probabilmente stava scivolando lungo un pendio e in ogni caso abbiamo le fotografie di Cappa che ci dimostrano che dopo quell'immagine non era morto dopo un paio d'ore accidenti a noi il nostro personaggio non c'era più e quindi in questo caso noi siamo in una condizione di dire che anche quella in un certo senso è una fotografia costruita così come è una fotografia costruita per una ragione differente la famosa fotografia dei Marins a Iwo Jima che alzano la bandiera americana che abbiamo visto tutto abbiamo visto addirittura trasformata in monumento perché quella è costruita dice hanno fatto un falso ma non era proprio un falso il vero problema è che Iwo Jima quando dovevano drizzare la prima bandiera continuavano a sparare come i matti e quindi i reporter che avevano mandato giù per scattare la fotografia non ci riuscivano quindi hanno dovuto fare un ulteriore intervento militare e quando è stato fatto l'ulteriore intervento militare il primo dei reporter che è arrivato ha detto ragazzi prendere quella bandiera e tenerla su no 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 così fermi così quindi voglio dire anche quella è una foto assolutamente costruita tutte queste foto che io vi ho raccontato che vi ho detto hanno un carattere comune non sono dei documenti non documentano assolutamente nulla sono sono invece dei simboli sono diventate un qualcosa che ha travalicato l'elemento con cui l'immagine doveva raccontarci non dico una verità ma se volete raccontarci un accadimento e sono diventate qualcosa che ha assunto un valore che va al di là di quell'accadimento al di là dello stesso contenuto della fotografia quindi per forza di cose sono diventate dei simboli universali uno è diventato il simbolo della guerra e della guerra di liberazione penso alla fotografia del miliziano di Cappa l'altra è diventata il simbolo dell'amore l'hotel della ville di Duasnou e via di questo passo il problema che aveva Bruno Vidoni insieme a Gilardi nei primi anni settanta era direi abbastanza semplice cioè il reportage secondo loro era entrato in una fase tale dove la fotografia non documentava più nulla non era più come gli inizi della storia della fotografia dove l'immagine per tutta una serie di cause e accessori che vi risparmio avevano effettivamente la possibilità di elevarsi a valore di documento arrivati negli anni settanta le fotografie dicevano Vidoni e Gilardi non documentano più nulla e non documentano più nulla perché nel frattempo si è stabilita una industria della comunicazione in cui gli editori perché sono quelli che commissionano i lavori non hanno assolutamente più bisogno di avere dei documenti devono riuscire a catturare il pubblico attraverso delle immagini che siano dei simboli e quindi chiedono ai fotografi di scattare le fotografie in una certa maniera e poi tutto questo lo abbiamo visto anche nella guerra del Vietnam no la ragazzina che corre dopo il bombardamento del Napalm completamente nuda davanti eccetera tutta ustionata che è entrata anche quella nella storia della fotografia l'altra volta nel precedente incontro facciamo vedere alcune di queste immagini facciamo vedere anche come quell'immagine era stata tagliata perché in realtà in quell'immagine si vedono tutti i reporter che stanno a scattare mentre la ragazzina scappa e questo non è bello perché altera l'immagine e soprattutto dava l'impressione che i fotografi invece di dare una mano a questa povera disgraziata stavano là a divertirsi e fotografare quindi quella parte lì la tagliamo via e succede quello che succede allora il buon Bruno insieme appunto ad Ando Gelardi decide ed è il 1972 di fare una prima operazione la prima operazione è una serie di fotografie sul conflitto vietnamita ma nella fattispecie sulla Cambogia rinfresco la memoria alle persone che hanno già una certa età come me e invece do forse un'informazione ai giovani che la guerra del Vietnam forse la trovano su internet ma proprio sino in fondo quello che è successo non riuscivano a capirlo allora la cosa è questa nel 1960 il Vietnam che era già diviso in due parti la parte del nord in mano il paese in mano la repubblica del nord repubblica comunista e invece la repubblica del sud che era diventata repubblica del sud dopo che Diem che era ministro invece di un regno aveva spodestato il sovrano vi risparmio tutti gli intrighi di corte perché i francesi avevano già perso l'Indocina e quindi tentavano di appoggiare il sovrano del Vietnam del sud a differenza degli americani che sostenevano Diem che era un assoluto assassino e anche un deficiente patentato tanto che saranno gli stessi americani che attorno al 63 e 64 cercheranno di levarselo dalle scatole con un colpo di stato solo che il problema cosa è diventato che si sono ritrovati due altri generali che erano peggio di quello che avevano mandato via questi sono gli antefatti nel 1960 la parte diciamo del Vietnam del sud si configura un comitato di liberazione che vuole l'unione con il Vietnam del nord gli americani hanno il terrore che questo sia il preludio a un ulteriore sviluppo del comunismo nella regione e quindi cominciano a mandare dei consiglieri militari i consiglieri militari all'inizio sono pochini pochini qualche migliaio cominciano con 1200 1300 consiglieri militari ma poi la situazione degenera immediatamente perché nel giro di pochi anni arrivano a flussi sempre maggiori e quando dico maggiori dico che dovete pensare che si passa nel giro di un anno da 1000 a 15.000 da 15.000 a 22.000 da 22.000 a 50.000 vi risparmio l'escalation perché arriviamo al culmine che è il 1968-69 dove gli americani hanno schierato qualcosa come 550.000 uomini non mi interessa il problema militare dell'esercito e credo che non interessi neanche voi ma interessa un problema base un problema di costume perché avere in un paese 550.000 uomini e visto che comunque gli devi dare il cambio per la ferma vuol dire un quantitativo spropositato di uomini che devono essere arruolati e di uomini che dopo essere stati in battaglia per più di un anno tornano a casa e quindi nasce negli Stati Uniti il cosiddetto problema dei veterani problema che si moltiplica anche sul fatto che molti giovani di andare a morire in Vietnam non ci pensano lontanamente per cui scappano come? Chi ha dei soldi chi ha delle famiglie agiate cerca di saltare il Vietnam arruolandosi nella guardia civile americana perché questo impediva di partire arruolati oppure potevi sposarti oppure potevi scappare in Canada questo fondamentalmente era il meccanismo ne scapperanno tanti in Canada che dovrete aspettare gli anni Ottanti quando il presidente Carter farà un'amnistia per tutti quelli che erano renitenti alla leva ma il fenomeno è enorme quindi il paese si spacca fra forze conservatrici che pensano che sia giusto andare nel Vietnam e le forze invece non conservatrici e le forze pacifichiste e metteteci tutto e quindi il risultato sono manifestazioni che diventano sempre più gigantesche in America e fuori dagli Stati Uniti come vi dicevo il culmine è grosso modo il 68-69 poi anche per i presidenti americani la situazione diventa sempre più insostenibile e quindi si comincia un graduale ritiro delle truppe poi si arriverà al 1973 in cui ci sarà l'accordo fra il Vietnam del nord e gli americani ma continueranno i combattimenti continueranno in maniera assurda i bombardamenti anche perché ormai la guerra è persa dopodiché per gli Stati Uniti rimarrà quel nervo scoperto che ha rappresentato il Vietnam e che se volete è raccontato da centinaia e centinaia di film sempre per darvi il clima negli Stati Uniti e per capire un po' cosa succedeva fuori ricordatevi che nel primo periodo di guerra quindi grosso modo dal 60 arrivare al 75 quando gli americani se ne andranno via definitivamente i film che parlano del Vietnam sono assai pochi per quale motivo? perché le grandi mayor cinematografiche non volevano schierarsi perché era una situazione che avrebbe potuto provocare dei problemi in ordine finanziario e quindi evitano di schierarsi evitano di produrre tanto che un guerra fondaio come John Wayne farà un film berretti verdi porcheria tremenda anche come film ma se lo pagherà di propria tasca perché nessuna delle sue mayor anche se lui era un divo hollywoodiano vorrà finanziare il film chi comincia a parlare del Vietnam in maniera stramba anzi il primo che parla del Vietnam in maniera pertinente ma insomma diciamo così già sollevando il problema dei veterani è un regista che si chiama Ras Mayer che in realtà è un regista che poi diventerà famosissimo e lo era già nel periodo per tutt'altro genere di cose cioè per film softcore per film erotici le sue bambole o vixen entreranno nella storia del cinema perché erano delle super maggiorate tanto che gente come la Lollo come la Sofia Roren erano come posso dire delle femmine piuttosto piatte in confronto a quello che sceglieva Ras Mayer che amava dei davanzali prorompenti mettiamola così Ras Mayer nel 65 che cosa fa esce con un film che si chiama Motor Psycho in questo film per la prima volta c'è una gang di balordi che va in giro a violentare le donne ad ammazzare il prossimo finché nel finale del film si scoprirà che il capobanda questo assoluto passo scatenato passo lo è davvero ed è passo perché ha fatto la guerra del Vietnam e quindi c'è tutto uno sprolochio finale del film in cui questo con i linguaggi della propaganda americana racconta delle sue battaglie con i Vietnam e pensa di essere ancora nel Vietnam bene questo è il clima di quegli anni non a caso ho citato Ras Mayer perché se mi viene in mente qualcuno che in un certo senso per la sua carica per la sua ironia Ras Mayer ha riso di tutto ha riso del sesso ha riso della guerra ha riso della violenza è stato il classico regista che prendeva in giro qualsiasi cosa gli capitava sotto mano ebbene un paragone con Bruno Vidoni per quanto azzardato andrebbe fatto se c'è un regista che in un qualche modo potrebbe assomigliare a Bruno Vidoni per la carica trasgressiva è Ras Mayer torniamo un attimo alle fotografie e quindi ultimi cinque minuti e poi lasciamo la parola al nostro ospite abbiamo il primo servizio il primo servizio non è un servizio che viene pubblicato dicendo e facendo credere che quelle immagini sono vere sono immagini della Cambogia perché gli americani che erano in Vietnam andavano anche a bombardare e a combattere nel Laos e nella Cambogia perché erano i due paesi confinanti attraverso cui il Vietnam del Nord faceva arrivare i rifornimenti ai Viet Cong e quindi lui parte con la prima impostura questi soldati americani che prendono le loro forme dai grandi reporter di quel periodo reporter di quel periodo che erano principalmente l'abbiamo raccontato Don McCullin che era inglese fra l'altro non americano e che citavamo diventato anche famoso poi perché era uno dei collaboratori del film Blow Up di Antonioni fece molti reportage sociali e divenne forse il più famoso reporter di guerra ma ce ne sono altri assolutamente il figlio di Errol Flynn era uno dei reporter in Vietnam se vi volete divertire su queste cose leggetevi di Spacci di Michael Herr questo testo che è rimasto un po' nella storia della letteratura e anche della letteratura del Vietnam e Herr questo giornalista è poi stato famoso perché è stato il consulente per Apocalypse Now di Coppola e il consulente anche per Full Metal Jacket il film sul Vietnam girato da Stanley Kubrick il nostro Vidoni prende quelle immagini se le studia bene in quel periodo perché c'erano tutte le riviste e via dicendo e poi con i suoi amici esce dietro casa e va a realizzare per l'appunto quella serie di immagini dove c'è dentro di tutto c'è il morto c'è il vietnamita torturato qui ci sono anche un sacco di reduci dal Vietnam da quel Vietnam anzi da quella Cambogia e quindi insomma questa è la prima cosa che viene pubblicata sulla rivista Foto 13 nel 72 con uno scopo preciso quello di dire guardate non serve niente parlare della guerra della violenza la gente si abitua alla violenza le foto si possono anche fare false e queste erano foto che avevano tutte le didascalie palesemente ironiche palesemente di prese in giro non pago di questo passo un anno forse convinti che insieme alla rivista Foto 13 dove c'era Gilardi non avevano raggiunto lo scopo che si prefiggevano e giocano uno scherzo terribile alla rivista concorrente cioè fotografia italiana che in quel momento era la rivista fotografica che era paladina dei reportage cioè fotografia italiana sosteneva la fotografia concerte come si diceva allora e quindi vengono prese tutte queste situazioni vengono messe in campo ma in un reportage differente che cosa c'era in quel momento oltre al Vietnam che stava sul cuore di tutti c'era la guerra di Irlanda ricordiamo sempre per i più giovani che cosa era successo stiamo parlando non di tutta l'isola stiamo parlando dell'Irlanda del nord cioè quella che ha fra virgolette una dominazione inglese in quel momento nell'Irlanda del nord due terzi erano protestanti e detenevano il potere economico un terzo erano invece cattolici se non che però in tutta la rimanente parte dell'Irlanda erano praticamente tutti cattolici quindi la componente minoritaria nell'Irlanda del nord cercava di ricongiungersi con l'altra parte dell'isola gli inglesi mandano l'esercito succede di tutto e di più è lì che nasce l'Ira cioè questo gruppo armato per la parte cattolica ma succede nel 72 quindi diciamo qualche mese prima che Vidoni faccia questo reportage un fatto assolutamente tragico è quello che viene chiamato il Bloody Sunday siamo nel gennaio del 72 gli inglesi ai dimostranti in piazza sparano addosso e sparano addosso a 26 persone e ne fanno fuori 14 a sangue freddo perché loro hanno sempre detto che gli irlandesi cattolici avevano sparato contro di loro e ci sarebbe stata una reazione ma tutti i giornalisti presenti in quell'avvenimento hanno sempre sostenuto il contrario che i manifestanti cattolici erano assolutamente disarmati questo per darvi sempre il clima di quegli anni e per dire che Vidoni parte con la seconda impostura ma questa volta l'impostura non è dichiarata è un polpettone che viene mandato appunto a fotografia italiana con un nome di fantasia Roger Walker fotografia italiana recepisce il reportage e lo pubblica inneggiando la nascita di un nuovo grande reporter questo Roger Walker che era un nome che probabilmente Vidoni ho sempre sospettato avesse tirato fuori da dei filmetti di serie B non ne ho la prova ma insomma c'era un agente segreto Walker in quegli anni che si muoveva che era un tipo che secondo me stava bene insomma in questa cosa per cui finendo esce questa impostura e succede il disastro perché naturalmente i morti risuscitano nel mese successivo in una rivista concorrente che era quella di Gilardi foto 13 che dice ve l'avevo detto avete visto non c'è bisogno di andare a mandare i reporter in guerra non c'è bisogno di abituare le persone alla guerra perché più si fanno queste cose più la gente si assuefa e quindi veniva messo poi naturalmente il discorso era anche diverso in termini di comunicazione poi vi fanno passare quello che vogliono perché voi pensate che siano delle immagini vere in realtà potrebbero non essere immagini vere io vi ho costruito l'Irlanda fra le strade di Cento ci ho pure messo il mio nome su una targa della via o ai Doni Street per cui c'erano tutti gli elementi il dibattito andrà avanti per mesi Bruno Vidoni entra nella storia della fotografia e io qui mi fermo perché naturalmente fatto questa introduzione sul lavoro di Bruno ebbene che noi dopo aver memorizzato questa cosa facciamo un salto invece da Edoardo e parliamo invece con lui degli stessi temi ma come lui che fa il reporter vive oggi la sua professione com'è il rapporto con la committenza editoriale cioè gli argomenti sono tanti io non gli do una scaletta perché credo che Edoardo abbia preparato anche delle immagini da farci vedere anche sul problema proprio della alterazione sull'immagine scattata e quindi sulla presentazione perché oggi il digitale consente delle possibilità che sicuramente quando c'era Bruno Vidoni erano inimmaginabili e quindi come sempre il mondo va avanti però le tematiche affrontate da Bruno Vidoni sono delle tematiche che mantengono con loro validità e pongono dei problemi che sono validi anche oggi pur in un mutato contesto di tipo comunicativo Grazie dottor Roda grazie davvero prego Grazie Allora inzitutto dico che sono contento di essere stato invitato qui e non conoscevo Bruno Vidoni quando ad agosto mi è stata fatta questa proposta ho subito cercato su internet per capire di che cosa si trattasse per un attimo sono rimasto un attimo spiazzato perché mi aspettava appunto qualcosa che si confacesse a quello che io faccio cioè il reportage questa mi è sembrata più una provocazione una provocazione che credo tuttora sia una provocazione chiamare in un certo senso me in un certo senso queste foto si presentano all'occhio meno attento come se fossero forse l'antitesi del lavoro che faccio io cioè quello di fotogiornalista però è una provocazione che io colgo molto volentieri lo dicevo prima a loro perché mi permette di mettere un attimo in discussione quello che io stesso faccio e dopodiché penso che questa in realtà non sia nemmeno l'antitesi del giornalismo perché è mia convinzione che il giornalismo più che fornire spiegazioni diciamo documenti debba essere in grado di porre in discussione gli argomenti e mettere in crisi realmente lo spettatore perché solo attraverso la crisi io sono convinto lo spettatore si mette in gioco si fa delle domande e quindi si accresce quando ci sono troppe spiegazioni e cose semplici si finisce per appiattire tutto ed è quello che succede oggi con la comunicazione moderna quindi in un certo senso questo per me è giornalismo perché ha creato delle discussioni ha fatto nascere dei pareri ha fatto muovere persone che altrimenti non si sarebbero poste certe domande quindi per me è sia arte è una performance artistica ma allo stesso tempo lo riconosco come giornalismo insomma è anche alto giornalismo se ne stiamo a parlare ad oltre 30 anni di distanza con tutto quello che è successo e con tutti i cambiamenti che in questo lavoro ci sono stati in questi ultimi soprattutto in questi ultimi 10-15 anni e vedere che queste cose queste provocazioni appunto sono ancora attuali fa capire quanto appunto ci fosse dell'intuito dietro insomma e quanto fosse interessante appunto Roberto già ha parlato abbondantemente insomma di quanti esempi ci sono nella storia del fotogiornalismo di falsi o di mistificazioni o di alterazioni della realtà attraverso l'immagine io non sono né uno storico sono un fotografo per cui di solito quando si va agli incontri si fanno vedere i propri lavori eccetera più o meno è questo quello che faccio di solito e quindi anche in questo caso ho deciso appunto di far vedere dei miei lavori ma partendo da presupposti differenti cioè non quello di far vedere le mie immagini migliori o quelle che sono più significative per me eccetera ma andare un po' a scavare rispetto alle mie immagini e cercare le mie mistificazioni perché il presupposto è che non esistano immagini reali cioè l'immagine si distacca dalla realtà e in un certo senso l'immagine dice alle volte più del fotografo che dell'oggetto fotografato in un certo senso perché dal momento in cui si sceglie di scattare c'è tutta un'operazione di alterazione non di alterazione della realtà ma di interpretazione della realtà che avviene prima dal fotografo poi dal fotografo a chi è il committente e chi pubblica le foto quindi queste foto subiscono un processo che le distanzia enormemente in molti casi tantissimo da quella che è la realtà fotografata per cui sono andato a scavare un poco fra le mie immagini e se riusciamo ad attivare un attimo il proiettore comincio a farvi vedere qualcosa mi fa piacere se ci sono domande eccetera sono cose che difficilmente un fotografo dovrebbe far vedere al proprio pubblico perché un po' rivelarsi allora la prima mistificazione diciamo il processo di trasformazione della realtà in immagine avviene nel momento stesso in cui prima ancora che si scatti perché prima ancora che si scatti il fotografo fa un'operazione sulla realtà sceglie cosa fotografare e soprattutto sceglie cosa escludere quindi dà la sua interpretazione di alcuni no non credo ci sia bisogno forse almeno non spegniamole tutte perché forse lei mi chiedeva un po' di luce però se le abbassiamo il produttore è abbastanza buono per cui dicevo il primo processo di staccamento dell'immagine dalla realtà avviene quando il fotografo è sulla scena appunto parliamo di fotogiornalismo quindi dove c'è un avvenimento e decide che cosa fotografare e decide come interpretare quell'avvenimento che lettura darne cosa escludere eccetera a questo proposito vi voglio far vedere un lavoro fatto in palestina qualche anno fa c'è stato un periodo che credo fosse 2010 nel quale ci furono parecchi scontri fra manifestanti palestinesi e soldati israeliani in seguito a una decisione di ampliare delle colonie nei territori palestinesi ora vi faccio vedere le immagini che io ho realizzato e ho presentato e poi pubblicato con i giornali più o meno come le ho presentate a loro non è esattamente lo stesso ma queste sono più o meno le immagini che ho presentato un attimo solo immagino già viste voglio dire questa è una delle sensazioni anche che si ha in questi contesti specialmente in palestina che si fotografa ma si sa già cosa si sta fotografando perché lo si è già visto in palestina avviene spessissimo voglio dire il lancio di pietre immagino che tutti l'abbiamo visto io me li ricordo dall'infanzia nell'immagine del palestinese da quando io ho cinque anni sei anni forse è quella del ragazzino che lancia le pietre contro un cararmale e questa già voglio dire la dice lunga insomma su quello che un fotografo fa voglio dire queste sono le immagini degli scontri appunto ci si scontrava con l'esercito israeliano che era ovviamente dall'altra parte non so se le scorro troppo veloce ma diciamo più interessante quello di cui discutiamo che il contenuto delle immagini appunto come abbiamo detto sono già viste dopodiché io in quell'occasione in particolar modo era una cosa che io già notavo e ci teneva a cuore appunto quale fosse il nostro ruolo di fotografi e giornalisti vi faccio vedere la situazione aggiungendo delle foto che io ho prontamente escluso da quelle che ho proposto ai giornali e questa era la stessa situazione voglio dire noi eravamo in questa situazione a fotografare che voi nelle immagini precedenti non avete visto ovviamente ed era una situazione paradorsale nella quale i fotografi erano probabilmente più dei manifestanti che tiravano pietre e i manifestanti che tiravano pietre se voi vedete queste e c'ero anche io fra quei fotografi perché dopo ho scattato queste immagini però vi ho fatto solo vedere queste immagini ho fatto quello che mi interessava per il mio lavoro principalmente per dare anche una notizia voglio dire la notizia che in Palestina stesse succedendo qualcosa era reale non era immaginaria ma quello che io ho fatto sull'immagine è un'operazione di interpretazione di cesura che può essere molto discutibile anche dal punto di vista etico secondo me in certi aspetti quando si arriva a degli eccessi voglio dire lì i fotografi si mettevano guardate i soldati israeliani dietro sono assolutamente calmi sembra insomma una messa in scena voglio dire i ragazzini non arrivavano assolutamente con quelle pietre dove erano i soldati israeliani l'unico pericolo che noi correvamo reale in quel momento era che ci buttassero qualche pietra in testa perché erano molto e si procedeva così voglio dire se vedete i fotografi cambiano vi ripeto c'ero anche io fra quei fotografi infatti questa foto è stata scattata esattamente dalla stessa angolazione di quest'altra questa è una situazione come se ne ripropongono tantissime vi ho fatto l'esempio della Palestina perché è un esempio classico e questa è una situazione classica noi eravamo tantissimi fotografi il lancio di pietra era semplicemente simbolico era semplicemente a favore dei fotografi sostanzialmente tant'è che dopo i fotografi hanno incitato ad accendere delle gomme e il fumo nero in queste occasioni fa il suo effetto appunto di già vista ed eravamo proprio tanti tant'è che si litigava perché non potevi stare dall'altro lato perché dovevamo stare tutti nella stessa posizione perché altrimenti andavi in campo degli altri fotografi eccetera insomma io a parte aver fatto queste foto perché notavo una situazione anomala voglio dire eccetera non anomala in realtà è ordinaria questa situazione se dobbiamo essere sinceri più si va avanti più è ordinaria perché è pieno di fotografi il Medio Oriente è stracolmo di fotografi durante la primavera araba c'erano situazioni paradossali ho visto c'era questo ragazzo che si era messo davanti al cannone che sparava all'acqua dietro ci si sono messi 50 fotografi al punto che i carri dell'esercito non potevano più passare sono dovuti tornare indietro per i fotografi diciamo perché sennò avrebbero fatto strage dei giornalisti e come vedete appunto viste così le immagini assumono tutt'altro significato quello che vi ho fatto vedere e questo appunto è il primo processo che avviene di scollamento dalla realtà questo sono io che ho scelto quali immagini far vedere sono io che ho dato l'interpretazione pur sapendo che quella situazione era più complessa ho prodotto come reportage ho fatto anche queste immagini perché mi sembravano interessanti e questa è una buona occasione per riproporle e ne sono contento non l'avevo fatto prima dopodiché per il mio lavoro e sapendo come funzionano i giornali eccetera queste immagini sono state presentate sotto quella forma voglio dire ho anche avuto la fortuna che un giornalista è apparso questo è anche un mio caro amico che poi è stato pubblicato su un giornale americano però giusto perché ci stava bene non si notava se voi notate quanto distanti sono le camionette dell'esercito israeliano vi rendete conto come quella situazione non dico che fosse del tutto fittizia la rabbia era reale però questi qua erano ragazzini che erano più eccitati dai fotografi e dalla presenza dell'esercito voglio dire questa la si può trasformare in qualsiasi cosa nell'inizio di un'intifada così fu presentata voglio dire il rischio che ci fosse l'inizio della terza intifada che poi questo rischio reale ci fosse discutibile insomma ma queste immagini sono state utilizzate queste persone fotografate sono state utilizzate per diversi scopi il mio era quello di lavorare e guadagnare eccetera quello dei giornali altrettanto insomma questa è la prima cosa che vi voglio far vedere dopodiché vi faccio vedere una cosa della quale vi confesso mi vergogna abbastanza è un lavoro sull'emergenza e rifiuti che io ho fatto qualche anno fa è stato il mio primo lavoro di reportage con il quale ho cominciato a pubblicare da subito con giornali abbastanza importanti ed era un periodo nel quale io da autodidatta imparavo sia a scattare sia ad usare il digitale sia a lavorare in photoshop e il fotogiornalismo quando ha scoperto photoshop qualche anno fa si è arrivato a degli eccessi che tuttora ci sono nei giornali si è arrivato a degli eccessi di postproduzione quindi di alterazione digitale delle immagini non alterando nel senso di cambiando cose oggetti eccetera ma alterando nel senso di cambiando colore tonalità contrasti eccetera in maniera molto eccessiva e a quell'epoca ero abbastanza eccessivo anch'io quando ho cominciato c'è da dire che quando ho cominciato ad esserlo è quando ho cominciato a pubblicare le foto hanno cominciato a funzionare molto di più ora vi faccio vedere alcune immagini questa è l'immagine diciamo originale anche se un originale non esiste nel senso che la sua la macchina fotografica stessa fa un'interpretazione della luce eccetera voglio dire se avessi cambiato delle impostazioni l'immagine sarebbe venuta diversa però questa diciamo è la mia immagine di partenza e questa è l'immagine dopo la postproduzione tutto diventa più crudo viene tolto questa è una pratica nel fotogiornalismo comunissima cioè togliere il ciano dal cielo tutto diventa grigio tutto diventa triste tutto diventa drammatico insomma e poi maschere di contrasto fortissime se guardate il prato si vede bene se guardate l'erba sostanzialmente c'è qualcosa che non esiste io invento la luce invento la luce su lì per dare parti di maggiore luciarezza e parti più scure più contrasto più drammaticità più forte questa è un'altra immagine questa in realtà era già sovraesposta per cui era già particolarmente strana di suo insomma questa è un'immagine che è già forte di suo viene proprio se guardate la bocca della pecora io cercavo all'epoca ci stavo insomma ci credevo molto in queste cose quindi ci lavoravo molto ho praticamente fatto uscire un po' i denti fuori perché li trovavo ancora più crudi eccetera ho marcato tantissimo la scritta insomma questa qui l'unica cosa che vi faccio vedere è come ho tolto il blu dal cielo sostanzialmente poi la foto è stata anche rilavorata però in questo caso vi faccio vedere non solo dal cielo ma da tutta la foto non c'è più blu se guardate i rifiuti ci sono dei sacchetti blu che adesso sono in bianco e nero assolutamente in bianco e nero voglio dire questa è la foto sempre originale e questa è la foto super contrastata è resa drammatica eccetera questo è un processo che io applico tuttora voglio dire come principio di lavorazione delle immagini è lo stesso quello che succede è che lo faccio in maniera molto più delicata quindi l'idea è che lo spettatore lo percepisca ma non lo percepisca in maniera così volgare realmente perché credo siano abbastanza volgari come posto produzione guardate questa qua guardate la parete il muro ci sono cose che non esistono che ho inventato io tutte queste strisce le ho fatte io proprio le ho fatte io realmente perché il muro era troppo pulito per insomma per dare questa drammaticità mi serviva questo muro e l'ho fatto questa fila di carabinieri di notte all'out era un sito dove volevano costruire una discarica questa è la post produzione dopo se guardate in fondo ci sono dei carabinieri che non esistono ora la foto è post prodotta male io semplicemente questa è un'operazione che richiede un minuto e che chiunque abbia un po' di praticità con photoshop riesce a fare ma nemmeno un minuto ci vogliono 10 secondi per fare delle alterazioni che sulla carta vi possono sembrare estremamente complesse se ci sono le condizioni giuste sull'immagine si riescono a fare in due minuti cambiare persone cambiare un volto mettere il volto di uno a un altro sono cose che si fanno con una semplicità ormai con gli strumenti che ci sono davvero impressionanti e qui insomma per dare tutta la fila di carabinieri che per me era più interessante e bella ci ha aggiunto dei carabinieri ci sarebbe tutta una discussione da fare se questo è etico o se non è etico questo non è considerato etico diciamo da la stampa tradizionale e da chi detta delle regole che in realtà non esistono più voglio dire sostanzialmente io posso obiettare che togliere l'azzurro a questa foto è meno etico che aggiungere quei carabinieri perché togliere l'azzurro a questa foto significa cambiare anche il senso dell'immagine questo è un lavoro che ho fatto semplicemente sull'estetica e potrei obiettare che questo lavoro è meno eticamente compromesso di quell'altro sì no voglio dire sostanzialmente appunto quello che dimostrava Vidoni era il fatto che pensate che lo scorso anno al festival di Savignano che è un festival che c'è da un po' di anni di fotografia c'è un concorso dedicato a un fotografo Matteo Pesaresi lo scorso anno è stato vinto da un reportage sulle primavere arabe da un ragazzo italiano che non è mai stato in Medio Oriente lui che cosa ha fatto con una Polaroid ha scattato foto alle immagini che andavano in televisione e ha creato attraverso queste immagini belle ha creato una selezione che aveva tutta la coerenza di un reportage aveva il linguaggio di un reportage c'erano foto d'insieme c'erano particolari era tutto lavorato in maniera abbastanza interessante ed era un reportage a tutti gli effetti ha vinto più di un premio ed è stato pubblicato voglio dire è stato pubblicato a corredo di articoli che parlavano della primavera araba e quello per me può essere considerato a tutti gli effetti fotogiornalismo in questo senso eppure la persona non c'è mai stata in quei luoghi questo è un contadino che insomma ha visto le sue pecore morire l'una dietro l'altra e così mi sembrava un po' più drammatico che così questo è l'originale qui qui ho proprio inventato la luce praticamente se voi vedete era buio c'era un minimo fascio di luce che si notava due minimi fasci di luce che si notavano andare sopra i due cumuli di rifiuti io li ho accentuati molto e poi ho dato tutta una luce che non c'era voglio dire si può decidere di cambiare l'orientamento del sole in alcune non su tutte le immagini ma inventare la posizione del sole si può fare di tutto e io non sono uno bravo voglio dire queste sono molto dozzinali però questa è maschera di contrasto va sempre via il ciano questa è una prerogativa di quasi tutti quelli che fanno reportage togliere il ciano e l'azzurro perché tutto diventa più drammatico qui è la stessa cosa va via tutti i colori accesi vanno via resta solo questo verde lo stesso anche qui se vedete quello attorno adesso capirete come per certi versi è bianco e nero in realtà non è più colore ci sono solo alcune cose che ho lasciato colorate ma il resto ho tolto i colori questo è un fiume questo posta una storia un po' particolare questo è un fiume ad Acerra dove fra l'altro è il mio paese natale sul letto di questo fiume che si era prosciugato erano stati riscontrati qualche anno prima i tassi di diossina più alti d'Europa insomma roba tipo un milione di volte più alto perché queste praticamente fra l'altro erano scavi archeologici ed era una conca scavata dai romani perché c'erano acque termali questa conca era perfetta per sversare rifiuti e per bruciarli quindi si è fatto questo per 15 anni a fianco ci sono le peggiori industrie quindi quando sono stati fatti rilievi antidiossina tipo 2002 fu riscontrato fu riscontrato questo tasso di livello tasso di diossina altissimo la cosa non fu diciamo non messa a tacere però non fu promulgata dopodiché qualche anno dopo avendo smesso le fabbriche di pompare l'acqua dal terreno il fiume è rinato quindi ha riempito questa conca ed è andata a distribuire quest'acqua in tutte le campagne coltivate eccetera io ero dal lato sbagliato del fiume nel senso che avevo il sole come riflesso questa roba che voi vedete sopra era violacea per cui essendo dal lato sbagliato avevo sempre il riflesso del sole addosso non riuscivo a rendere questo viola o almeno questo fra l'altro io scattavo in pellicola all'epoca mi accorsi che non ero riuscito a rendere questo viola per cui cercai di tirarlo fuori in post produzione la cosa interessante è che quando queste foto sono state pubblicate gli editori non erano evidentemente contenti di quanto viola ci fosse per cui hanno fatto questa cosa hanno accentuato io non gli posso manco dire niente perché era un processo che avevo cominciato io ora c'è da un lato il fatto che questo veramente fosse un posto allucinante e il viola gli si addice più di questo colore come spiegazione come interpretazione della realtà perché questo era un posto veramente allucinante con un puzzo incredibile ma soprattutto si sapeva quello che c'era sotto che andava distribuito per le campagne però diciamo questi sono stati vari passaggi ce l'ho messo prima io che l'ho fatto così ora non è la stessa foto ma il principio è lo stesso perché non l'ho trovata fra gli archivi dopodiché la foto sul giornale è apparsa così viola 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 questa non c'è nessuna alterazione nella foto se non il fatto che il cartello ce l'ho messo io l'ho messo in piedi io insomma stava a terra a fianco io l'ho sistemato bene e fra l'altro per ironia del destino questa foto mi è stata poi rubata da un settimanale italiano e io non sono mai riuscito poi ad avere la copia del giornale per richiedere soldi niente ma evidentemente me lo meritavo un poco diciamo visto credo per questo non ci sia altro c'è un momento in cui quando ero in Palestina ho cominciato a riflettere un po' più seriamente sul ruolo appunto di fare il fotografo lì e di fotografare ed è stato quando c'è stata l'operazione Piombo Fuso a Gaza fra dicembre 2008 e gennaio 2009 che in 15-20 giorni di bombardamenti gli israeliani fecero qualcosa come 1600 morti credo di cui una buona parte i bambini un attimo solo che qui capisco poco scusate se mi fosse meglio che su questo display di qua perché questa è la foto di un pacifista che apriva il servizio e questa è una prima mistificazione nel senso che io questa foto l'ho presentata insieme al mio reportage su quello che stava succedendo a Sderot e Gaza ma in realtà questa è la foto di un pacifista scattata 15 giorni prima mi serviva una foto che aprisse questa era molto bella mi piaceva volevo inserirla per cui ho semplicemente tralasciato nella didascalia di mettere la data esatta per cui ho scritto dicembre 2008 pacifista israeliano insomma diciamo che non ho falsato la cosa quando ho presentato ai giornali dopodiché per quanto riguarda la guerra che ci fu a Gaza la guerra insomma il bombardamento che ci fu a Gaza ai giornalisti non fu permesso di entrare in quell'occasione non so se lo ricordate per cui orde di giornalisti si cominciarono ad ammassare sulle colline che davano attorno a Gaza per cui sembrava proprio di assistere a uno spettacolo tutti questi giornalisti che vedevano da lontano queste telecamere puntate verso Gaza aspettando le bombe ed era una situazione paradossale ai quali giornalisti si aggiungevano tutti israeliani curiosi e sostenitori della guerra che andavano lì portando i figli per far vedere i bombardamenti su Gaza appunto sembrava proprio un videogioco voglio dire questa Gaza vista da lontano con queste orde di giornalisti che si ammassavano su queste colline fra cui c'ero anche io voglio dire il mio tono può sembrare dispregiativo però io alla fine erano le stesse cose che facevo magari mi facevo qualche domanda in più magari facevo qualche foto in più ai giornalisti perché mi sembrava assurda quella situazione però diciamo questa era la situazione che mi cominciò a fare un attimo riflettere su quello che noi si faceva dopodiché dopo la fine dei bombardamenti fu concesso ai giornalisti di entrare e ci fu diciamo la seconda fase di quella situazione che era una fase che io per la prima volta vivevo e cioè andare in un posto dove c'è stato un catastrofe un cataclisma in questo caso dei bombardamenti una guerra e andare lì per fotografare il disastro per fotografare la sofferenza della gente per fotografare il dramma mamme che hanno perso i figli figli che hanno perso le mamme andare lì insieme ad altri fotografi girare a caccia di immagini cercare la migliore luce nel quale mettere la donna inquadrarla bene perché quell'immagine diciamo che non è una cosa che mi ha lasciato indifferente in quell'occasione mi sentivo abbastanza uno sciacallo e vedevo i miei colleghi che mi sembravano abbastanza degli sciacalli in più c'è da dire che rispetto a quando Bruno Vidoni fotografava un altro mito se per me è caduto cioè il mito del fotografo che è testimone che quindi ha un ruolo importante che va preservato e va salvato noi in certe occasioni eravamo 15 o 20 avete visto quella situazione che vi ho fatto vedere prima voglio dire il nostro ruolo non è assolutamente indispensabile nessuno di noi era indispensabile voglio dire e se non ci fossero nelle primavere arabe comunque ci sarebbero stati centinaia e migliaia di manifestanti che hanno fatto riprese e hanno documentato in maniera molto più ingenua spontanea di come documentiamo noi questo è poco come è sicuro per cui trovarsi in quella situazione può succedere dopo un terremoto piuttosto che dopo uno tsunami piuttosto che dopo una guerra appunto andare a cercare la devastazione andare a cercare questo invece ho alternato foto della situazione paradossale che c'era sul confine durante i bombardamenti andare in un ospedale perché sai che c'è un bambino che ha un proiettile in testa ed è ancora vivo andare a cercare trovarlo chiedere di farti vedere la radiografia e fartela mettere nella migliore luce fare la foto e andare via perché con tutta la partecipazione che chi più chi meno c'è chi è molto più cinico di me c'è chi si pone delle domande come me ma sostanzialmente quello che ho fatto è questo andare lì apposta perché sapevo che c'era questo bambino e che volevo quella foto l'ho fatta sono tornato l'ho fatta vedere ci ho fatto mostre insomma ci sarebbe molto da dire sull'etica del fotogiornalista voglio dire soprattutto perché si vive di questo mito di eroe che dice la verità e che è nelle zone di guerra appunto gli raccontava di come questi bambini correvano penso in Vietnam giusto e venivano fotografati magari da 10 15 fotografi eccetera nessuno gli dava una mano per cui mi sono posto molte domande qui c'erano i soldati israeliani che mostravano questi pericolosissimi razzi palestinesi ai giornalisti qui quando abbiamo fotografato questa donna eravamo 4 fotografi che cercavamo la migliore posa perché aveva i buchi dietro forse l'ho trovata io la migliore ma non è la migliore luce questi erano giornalisti dalle colline insomma questa è un'occasione nella quale non mi è piaciuto fotografare nella quale mi sono soprattutto a gazza dentro nella quale mi sono sentito a disagio perché sai che realmente tu non stai facendo soprattutto perché ci arrivavi dopo tanti altri fotografi ed era pieno di fotografi sai che non stai facendo assolutamente niente di quello che fingi di star facendo può essere un lavoro e va bene ma non è manco un bel lavoro fare questo secondo me dopodiché insomma mi ha portato a fare un poco più di riflessioni questi erano i genitori appunto che portavano i bambini a far vedere le bombe questo era un bambino che aveva perso penso il padre e due fratelli io partecipavo io sono mediamente con questo bambino ci ho giocato tanto eccetera questa non è una foto che ho cercato perché mi servisse eccetera ci giocavo con questo bambino però ciò non toglie che il mio ruolo reale lì fosse quello io sono tornato ci ho fatto mostre ci ho vinto premi e la gente mi guarda e pensa che io sia chissà a volte quale ero vivendo appunto di miti del passato che a 30 anni di distanza da Bruno Vidoni dovrebbe essere un po' scalfiti però c'è ancora chi ci crede tanto e ci sono tanti fotografi che ci credono tanti fotografi che si pongono delle domande e che hanno un approccio differente e che hanno una sensibilità ma ce ne sono anche tanti che questa sensibilità non ce l'hanno e che si meravigliano e si scandalizzano se qualcuno gli dice che non gli va di essere fotografato non gli va che fotografi gente che sta morendo eccetera loro pensano reagiscono come se avessero questo ruolo super parte che non può essere che deve essere intoccabile quando in realtà siamo in una realtà ben diversa siamo tantissimi e se qualcuno non gli va di essere fotografato la prima cosa da fare è togliere la macchina fotografica secondo me soprattutto in tutte le situazioni ma soprattutto in quelle drammatiche però c'è gente che non se ne fa capace di queste cose non ho capito? in che senso? no io non ho mai pagato nessuno per aver no 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 purtroppo magari pagassimo magari avremmo almeno una signora ne avrebbe avuto un giovamento la signora anche aveva perso il marito credo ora non ricordo bene e lei ci guardava come se noi potessimo anche lei viveva di questo mito del giornalista che noi potessimo chissà che cosa cambiarle sostanzialmente la sua speranza e lei si sfogava con noi si faceva fotografare perché la sua speranza era che noi venuti da fuori dicessimo al mondo come stavano le cose che qualcosa cambiasse tanto il mondo dice voglio dire i giornali per i quali lavoriamo già sanno cosa dire con o senza le nostre foto già decideranno loro cosa dire poi chi più chi meno risponde alla propria etica dopo per cui voglio dire c'è tutta una serie di relazioni che il fotografo stabilisce con ciò che fotografa che spesso sono molto diverse da quello che poi l'immagine dice e anche del fotografo cioè se voi mi aveste visto dal di fuori insieme ad altri quattro attorno a sta signora a cercare la migliore luce insomma l'avreste avreste letto tutto diversamente sono convinto qui ancora questa era la collina da dove i giornalisti si appostavano per guardare Gaza questi erano altri curiosi su Gaza questa è un'altra donna insomma che come vedete sta mettendo la mano davanti alla faccia non vuole essere fotografata non vuole essere rotta le scatole io l'ho fotografata l'ho pubblicata l'ho fatta vedere questo è un uno scoppiato insomma che celebrava Dio al suono delle bombe e insieme a me c'erano altri penso dieci dodici fotografi perché eravamo tutti là sulla collina a fare la stessa foto insomma questa è un'altra situazione che può dire qualcosa secondo me sul ruolo del fotografo oggi sembra che ne stia parlando solo male dopo provo magari a dire qualcosa di meno peggio ora vorrei passare a un'altra fase che una volta le foto prodotte le foto chi fa questo per lavoro e cerca ancora di lavorare con i giornali nonostante la situazione molto difficile che c'è e sono andato a cosa succede quando le foto passano ai giornali c'è da dire una cosa che la prima cosa che un fotografo fa quando dà delle foto ai giornali mette delle didascalie è responsabilità del fotografo dare un'informazione completa a qualsiasi giornale si aspetta delle foto con didascalie se si tratta di giornalismo ora vi faccio esempi un po' più banali per far capire come funzionano certi meccanismi ho fatto un lavoro sulla comunità ebrea ortodossa di Israele questa era una foto che avveniva durante una manifestazione di centinaia di migliaia di ortodossi e sotto quest'albero era pieno di ortodossi quello che ho fatto io visto che stavo facendo un progetto non mi interessava quella manifestazione visto che gli ultraortodossi sono molto difficili da avvicinare estremamente difficili da avvicinare quello che facevo io approfittavo di ogni situazione pubblica dove la mia presenza di fotografo era in un certo modo accettata o celebrazioni religiose nelle quali sono più tolleranti a farti fotografare però io andavo alla ricerca di situazioni che non sembrassero pubbliche voglio dire appunto in questo caso ho escluso tutta la folla da sotto per i miei rapporti che ho con i giornali ho messo nella didascalia il fatto che fosse una manifestazione eccetera forse la didascalia ce l'ho qua ecco un breurto l'ottrodosso che su un albero nel quartiere di Measharim durante una manifestazione contro l'intervento dello Stato su eccetera dopodiché il giornale non riesco più a prendermi queste immagini dopodiché il giornale è pubblicato come copertina e nella didascalia hanno scritto daily life in Measharim nei guruta cioè vita quotidiana nella Measharim insomma hanno fatto quello che non avevo fatto io quindi manco li posso colpevolizzare questa è una delle cose più banali senza voglio dire quasi usare un'immagine che è iconica viene usata per la sua icona quindi la didascalia non è che è riferita direttamente a degli eventi quindi non è una vera e propria falsificazione non c'era manco bisogno forse di modificare la didascalia a quel punto bastava non metterla diciamo però così è stata corredata di didascalia nel retro della copertina questo è il fiume che già abbiamo visto questo è un lavoro che è uscito su un noto magazine francese durante la rivoluzione io ero lì durante la rivoluzione d'Egitto questo è il lavoro sull'Egitto e quello con il quale diciamo ho vinto un po' di premi nel 2012 e in quei giorni la comunicazione era molto difficile avevano staccato internet i telefoni andavano a singhiozzo loro mi contattarono perché oltre alle foto che io ero riuscito a mandare grazie alla France Press che aveva una connessione satellitare volevano che io dessi delle delle descrizioni e delle impressioni sulle foto che è una cosa anche abbastanza prestigiosa per me in quanto si tratta di un magazine importantissimo che stimo anche però per problemi di comunicazione questa cosa non poteva avvenire non poteva avvenire quindi loro si basarono solo sulle didascalie vabbè qui c'è una scusatemi ma io non conosco bene il francese questa didascalia più o meno va bene risponde a quello che stava succedendo cioè questo ragazzo chiamava i suoi compagni all'assalto di quelli che stavano cercando di assedere la piazza qui parla del 6 febbraio quando i fratelli musulmani no quando Suleiman che era diciamo un sottoposto di Mubarak si assume la responsabilità di trattare con i manifestanti eccetera se non fosse che la foto è stata scattata il 5 febbraio io di questa cosa di Suleiman non ne sapevo fra l'altro è tutto virgolettato come se fossero parole mie l'ha detto questo io non ho mai parlato praticamente con loro loro evidentemente gli interessava mettere questa notizia di Suleiman che faceva questa cosa il mezzo della donna che legge il giornale sembrava un buon mezzo per farlo l'hanno fatto può essere criticabile o meno più o meno insomma ma ci fa capire come è tutto relativo voglio dire non esista una verità ma la verità viene utilizzata dopodiché il limite secondo me sta nell'etica di chi la utilizza e nell'etica di chi fa informazione nel senso è in questo senso che viene l'etica ma dopo si va oltre ok queste due più o meno sopra vanno bene qui si parla di questi manifestanti che stanno marciando contro il commissariato e lo dico io sostanzialmente tra virgolette non ne sapevo niente evidentemente loro avevano bisogno di parlare del fatto che fossero stati assaltati dei commissariati e hanno deciso che queste persone per la loro posizione per il loro atteggiamento erano le persone giuste per introdurre l'argomento che dei commissariati di polizia erano stati assaltati però di quello che dice qui non c'è niente di vero vabbè poi in quella di sotto dice insomma di che cosa stanno parlando queste persone che probabilmente è vero insomma dice che parlano dei morti del giorno prima questo l'ho sempre detto io ma non l'ho detto poi basta insomma sono comunque interpretazioni loro e non mie alcune più condivisibili altre meno come vedete però come vedete non c'è una una reale divisione fra vero e falso che è quello appunto che la fotografia tutt'oggi fa credere che si stia parlando di verità c'è sempre un'interpretazione un'interpretazione che come avete visto ha svariati livelli parte da me nel momento in cui vado su un posto e arriva l'editore che pubblica la foto va lo stesso per internet dell'uso che se ne fa questa è un'altra cosa è un lavoro che mi fu commissionato su in seguito a Gomorra film libro eccetera su le vele di Secondigliano sempre un giornale americano è sempre Newsweek questo per il quale feci questo lavoro riusci a entrare abbastanza dentro alla situazione eccetera queste sono mie foto dopodiché la didascalia dice scene dal film di Matteo Garrone Gomorra per questa cosa qua chiesi spiegazione mi fu risposto che erano un po' troppo forti per per l'articolo eccetera quindi a quel punto cioè prendete le scene dal film voglio dire e qua stiamo parlando di giornali che sono considerati di altissimo livello e non stiamo parlando di di altro e mi fu fatto capire insomma che non era un errore sostanzialmente era una scelta editoriale quella di scrivere questa cosa perché c'era c'è un tossicodipendente che si sta bucando senza volto appositamente senza volto questa è un'altra questa è sempre la storia del fiume di cui vi parlavo prima quando scopri questa cosa appunto contattai questo giornale che forse riconoscerete dalla grafica contattai e diedi questa notizia loro stavano pubblicando un servizio sui rifiuti come avveniva quasi una settimana sia una settimana no all'epoca e furono molto interessati a questa storia interessante questa foto bellissima sì che cosa dacci più informazioni eccetera io gli diedi più informazioni convinto che questa notizia sarebbe uscita non se ne parla per tutto l'articolo la didascalia alla foto è rifiuti tossici abbandonati in una strada della Campania i rifiuti tossici non si vedono abbandonati questo è un fiume eccetera per cui questo è stato fatto proprio con consapevolezza la scelta di non approfondire questa notizia hanno scritto proprio qualcosa che nemmeno ha relazione con l'immagine voglio dire i rifiuti dove stanno questi rifiuti di topo voglio dire questo è un fiume è partito dal fiume voglio dire è partito dalla Campania ma dove sono questi rifiuti questo è stato diciamo come ha trattato la notizia questo giornale ci dovrebbe essere qualche altro un'altra immagine che però da qui non posso aprire un attimo solo ah queste sono le foto che vi ho fatto vedere prima pubblicate e anche qui voglio dire ma avviene sempre per cui non è anche qui la didascalia di questa foto va bene la didascalia se la trovo di quella successiva che è questa scrive The West Bank che sarebbe un'altra zona della della Palestina chiaramente da quella della foto precedente l'unico motivo per cui la mettono è perché nell'articolo si parla degli scontri sia a Gerusalemme sia in West Bank quindi hanno deciso che la seconda foto era West Bank insomma questo è un altro livello non so se fin qui è stato interessante eccetera diciamo però era per mettere un po' insomma in gioco me rispetto a queste provocazioni perché il lavoro che facciamo è abbastanza discutibile secondo me per tanti aspetti come potete vedere allo stesso tempo c'è la voglia di raccontare si fa molta differenza fra quello che è il lavoro appunto che sono i committenti che ti pagano che sono i giornali laddove io a parte non lo dico perché siamo ospiti di internazionale a livello internazionale ho lavorato più o meno con tutti i grandi settimanali che ancora esistono che pubblicano reportage è parte internazionale probabilmente con il quale ancora quando si pubblica si parla di cose di contenuti si parla di di linguaggio si parla di tante cose il resto è una fabbrica per cui è una fabbrica alla quale io aderisco nella misura in cui mi serve per lavorare voglio dire ma nella quale non credo più e si può trattare io non ho più illusioni si possa trattare voglio dire di Time o del New York Times o di altri voglio dire per me è un'industria che ripropone quasi sempre le stesse cose eccetera d'altro canto è un lavoro che mi permette non solo di viverci ancora fortunatamente ma mi permette anche di fare qualcosa che mi piace mi permette di approfondire eccetera e internet in questo senso ti dà molte possibilità in più perché con internet spesso hai la possibilità di utilizzare i tuoi contenuti in maniera totalmente indipendente e renderli pubblici nella maniera in cui credi tu e spesso questo ti dà delle soddisfazioni che i giornali non ti danno più quelle soddisfazioni che ti vengono date dai giornali e da queste cose sono quelle soddisfazioni che mi sanno di gusto un po' retro per delle cose che realmente non esistono più un mito di fotogiornalista che non esiste più nella realtà voglio dire è prendere in giro un po' con la realtà prendere in giro un po' tutti tornarsene da Gaza e fare il galletto con delle foto scattate in quei contesti voglio dire in contesti che ho cercato di spiegarvi e penso l'abbiate capito voglio dire tornare fare mostre rappresentanza per questo motivo sono particolarmente contento di essere qui perché per una volta non si tratta di rappresentanza a volte vale la pena farlo perché sono foto e lavori in cui credi di più però altre volte si tratta veramente di mettersi non dico una maschera ma interpretare un ruolo che è quello del fotogiornalista eroico per il quale io non mi ci sento fra l'altro dicevo prima Roberto questo è il Medio Oriente una zona nella quale mi ci sono trovato per altri motivi non l'ho seguita per la fotografia ma per motivi privati per cui io mi sono trovato dentro questa cosa avevo già cominciato a fare questo lavoro evidentemente lo faccio abbastanza bene perché tuttora mi riesce però diciamo che non è non sono uno di quelli che ci crede ciecamente e cerca di farsi delle domande diciamo e questo era un buon posto per farsene a questo proposito mi faceva piacere farvi vedere qualcosa che non ha niente a che fare con l'editoria quindi non c'è manipolazione è tutta roba mia tutte le manipolazioni che ci sono state sono state mie tornando al discorso di prima nel quale si diceva che internet comunque ti dà un sacco di potenzialità perché ti permette di utilizzare le foto in maniera totalmente indipendente se hai l'idea giusto la fai funzionare puoi riuscire a raggiungere tanta gente io dopo l'esperienza dell'Egitto nella quale io ci sono stato per due anni quindi ho seguito tutti gli avvenimenti ma io in particolar modo ho seguito i 18 giorni che sono anteceduti precedenti alla caduta di Mubarak e quei 18 giorni che sono stati abbastanza da quel lavoro ho tirato fuori ho realizzato insieme a più amici in realtà un montatore e musicisti ho realizzato una sorta di mini video di 8 minuti per il web che è una cosa nella quale ho creduto io in un primo momento avevo pensato di fare un libro ma fare un libro a parte che è un'esperienza costosissima è faticosissima dopodiché se prima poteva avere un valore oggi come oggi ha un valore solamente sempre di rappresentanza nel senso che questo libro raggiungerà probabilmente 500 persone di cui 300 le avrai regalate è una faticata che tu fai un po' autoreferenziale prima aveva molto più senso laddove non c'era la possibilità di far arrivare delle foto in determinati posti oggi un libro è un oggetto di culto e niente più voglio dire non è informazione non è diffusione eccetera e poi in più ti devi relazionare con gli editori ritorniamo al discorso di prima perché ho deciso insieme ho deciso di realizzare questo multimedia che vi farò vedere si chiamano multimedia laddove si aggiungono alle immagini altri contenuti audio o differenti e questo è un lavoro che mi ha dato molte soddisfazioni perché è stato visto tantissimo soprattutto in Egitto che era la cosa a cui tenevo di più piuttosto che in Occidente e in Egitto fu pubblicato volontariamente il giorno dell'anniversario anzi il giorno prima dell'anniversario dell'inizio delle rivolte cioè il 25 gennaio 2012 fu pubblicato il 24 gennaio ed ebbe una diffusione enorme tuttora ne ho riscontri di gente che lo vede eccetera ed è una cosa appunto che ho fatto indipendentemente dall'editoria eccetera ci ho speso un poco di energie ma mi ha dato soddisfazioni forse dovremmo attaccare l'audio non so se c'è vediamo un attimo perché ci sono alcuni momenti in cui va fortissimo quindi forse è meglio lasciarlo così forse possiamo abbassare un poco poco le luci e adesso non sarà abbassato grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.